ma che dico ma che fammi l'uso no bingo sei vivo bingo sei vivo hai l'uso testa di cazzo solo questo può l'utare coglione di merda testa di cazzo ma sta parlando da morto questo ma si sveglia ma che cosa credo sta parlando 313 rega quindi 313 intervenite intervenite aspetta ragazzi siamo in tempo giusto vai 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 io penso che dovresti andarti a riposare si a parlarci domani a mente lucida senza fare il minchione vai riposati e stai tranquilla ciao amici di tag ciao chiudi gli occhi qui no daddy basta porco dio nooo e te lo sai caciccio va a fare in culo va a fare in culo Guarda quanti soldi che aveva Buonasera Consensamente la macchina Oh Oh No è parlare chiaro come No no lo so ci sono cose che non mi tornano Oh come devi parlare chiaro Te l'ho già detto Devo iniziare a ricondurre Il puzzle capisci E' arrivato quel momento che devo mettere tutti i pezzi Insieme e poi Drago la linea Eh vabbè tira sta cazzo di linea Ehm devo essere sicuro Prima di Di dire una cosa Non lo so Ma è un fucking camion È un fucking trattore Enorme Ma cos'è? Ma si è pagato tutto Fratello cazzo Mica che brutta Che brutti ricordi Che c'ho di sta strada Dopo ieri Ma Ma cos'è successo? Ma Perché non è una Ma perché è sempre a me la maschera? Toh Toh Piedi sta cazzo di maschera bro Toh Ecco Perché lui no? Perché a me sì e lui no? Perché? Mo spiegatemela Mo spiegatemi questa Mo spiegatemi questa Mo spiegatemi questa Mo spiegatemi questa Mo spiegatemela Perché a me sì e a schippi no Perché a me sì e a schippi no Mo voglio sapere questa Mo lo voglio sapere Io ho sempre parlato bene di tutti ma questa la voglio sapere Questa voglio Voglio avere una risposta a sta roba Questa voglio avere una risposta A questa roba perché è sempre a me Perché Fa un culo va Va fa un culo Ma lei è visto cazzo di copyright Becille Ah mo vanno a riportare al giornalino Vanno a riportare al giornalino Mortacci mia Eh 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 ma fa un culo va A te sto grazzo dei propri copyright Mola mamma da Basta basta dai basta Senti siamo 1 a 1 pari Palla al centro Fai il meccanico Se ti serve sì Ah grande ok Fatto vola Premere soltanto una volta perché sennò le paga triple Oddio l'ho pagata triple infatti No ragazzi no Non solo tripla l'ha pagata No vabbè ma cosa è questa scammata che l'hanno Zio ne ho pagate 10 No ragazzi fa rimborsate questi Ne ho pagate 400 Ma che cazzo Ok la cosa bella è che io non lavoro qui quindi addio Grazie Alex per il prime bella bro Benvenuto Alex Io è un cameriere Lo denunciamo subito Ma Ma veramente l'ha pagata Io lo giuro L'ho pagata 10 volte almeno No guardi Vai ci sono 3 2 1 Vai Oh Si farà Unchia che pippa oh Quitato Quitato Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Cosa si dice ancora? È già data Si ci sono Oh che sta la tua esplosione? Pezzo Perché sei fermo? Vecchio ci sei? 20 mila dollari Prima mano l'ha persa Cosa ha fatto? Non si è buttato dal balcone Con un angioletto di fianco Con un angioletto di fianco Secondo voi quello è in ospedale O ha cambiato città il signore? Ha cambiato città sicuramente Che sicuro Sportunatamente non aveva una tutalare il signore Quindi Si comunque magari Fate la testa Ma cos'era un pugno wifi? Non è finito? Minchia l'hai distrutto Dio porco Madonna Porca troia E che? A bombe maradona? Che manco sfarzo negherai i tempi d'oro Eh vabbè Mi hanno detto che dobbiamo prendere i Brasili PAM Acucia Avete vinto raga? Qua gli edge di x ce la siamo giocata bene Fra io ho coperto lui e lui ho coperto me Ma io ero tutto convinto Vabbè mi faccio un botto di kill da sopra Non c'era nessuno sopra zero Guarda questo Quando avete vinto io? 3 a 1 Questi qua li ho scoppiati frate Eri qua dentro non sono stato sparato quindi sono sceso Scendo e mi sparo BOMB Mi fanno A me ricontato Quindi la finale La finale per i bravi ragazzi russi quindi Bravi ragazzi contro i russi Questo me lo faccio io Domani è la finale Ma tu Questo me lo faccio io fra Questo in preparo me lo faccio Dio cano Ti sfondo Guarda l'ultimo come è stato stato cattivo Ho detto quello si va a mettere in glitch picca alla fine Questo qua ci ammazza tutti no? Guarda qua Dicono col cazzo che ci ammazza tutti Al primo l'ho pushato io raga Non mi hanno visto Guarda Zong Guarda Zong Pucia per primo Guarda in quanti abbiamo pushato Guarda qua Eh Vabbè Madonna zio che cazzo hai combinato Ma non l'avete visto Due pattuglie Due pattuglie a rete Guarda come arrivano E' qua Maro che palla Che è successo Che è successo Salve salve Andavano leggermente veloce Ma come che se andiamo dalla curva Eh appunto l'avete presa proprio di curva Perdo mi sento perso Andavo un abbraccio al mio fratello Sto sento No alza le mani Alza le mani E adesso bro Che sei nero Sì Ma me sono fatto il nano Me sono fatto il nano Ma peter Ma inizia il cazzo Dai lo puoi lasciare Parola cazzo Minchia Ma certo che si può usare La parola cazzo Porco dio Lo posso usare E non posso usare La parola cazzo C'era un altro C'era un altro Fatto 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 Nice Abbiamo quello in fondo adesso Ah busciare busciamo 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 adesso Ragazzi Quello in fondo Più difficile Al mio tre raga Tutti quanti qua dentro Vai 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 busciatemi Ma era qua Ma sono in due Fatto quello sotto VAMO NO STAI DAI FORCATROI DAI DAI Sì sì Arrivano No io non avevo Povolarmi in mano No vabbè Muoviti Accompagnate Accompagnate Vosti all'ospedale Forza Veloce Prima che il moreno Tessi anduare Veloce Andiamo Andiamo Accompagnate Uno che rimane qua Posso rimanere io Per parlare Se portate Questi altri Dall'ospedale Forza Ragazzi portateli subito Allo Visto un altro Raga Tutto a sinistra Dietro un barilone Grande Fatto 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 un altro Raga Fatto un altro Io ho la moto Sono io Ho la moto Ok ok Tutto l'altro Tutto a sinistra Ok